Claudio Missaia, bomber della città di Castello, belli e incompiuti? Sì, come diciamo prima, se le partite le chiudiamo il primo tempo è un'altra storia. Adesso non è così, adesso riusciamo a dare coraggio alle altre squadre, però il campionato è lunghissimo, secondo me non è che abbiamo un punto o due, siamo lì a 3-4 punti, penso 3 alla sua base, il Todi secondo me non durerà e quindi avremo fra due domeniche lo scondo quella sua base, però nell'intermezzo c'è l'Arnese e Castello del Piano e quindi vincerà assolutamente. Come vi spiegate dei grandissimi primi tempi e poi magari che veramente potreste chiudere alla grande la gara e poi subiti il ritorno di queste formazioni? Perché non dobbiamo capire che ci sono dei momenti delle partite che devi anche tenere palla e non attaccare sempre. Noi spendiamo tantissimo i primi 40 minuti creando tantissime palle e gol che, come ho detto prima, in questo momento non entrano, però dobbiamo essere più capaci a tenere palla e quando vinciamo soprattutto a gestire meglio il pallone, quello è sicuro. Magari probabilmente non è un problema di singoli, ma è un problema di una squadra che comunque è stata rinnovata, devi ancora trovare la quadra, alcuni meccanismi devono essere registrati. Sì, 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 assolutamente, però penso che per i nomi che ci sono in questa squadra dobbiamo essere capaci anche noi di entrare al campo, di capire le situazioni in momenti delle partite, perché il Mestre ce lo dice, ma alla domenica non c'è in campo nessuno, sommano noi e solo noi siamo in grado di capire i momenti che puoi attaccare, i momenti che devi tenere palla, i momenti che devi difenderti e tutte queste cose. Claudio, c'è chi dice che vi guardate un po' troppo allo specchio, magari siete troppo sicuri di voi e poi invece andate in difficoltà quando gli altri iniziano ad attaccarvi. Andiamo in difficoltà che ci iniziano ad attaccarvi, soprattutto perché attacchiamo in tantissimi noi, perché vogliamo fare gol. Di questo che siamo belli, la sento dire anch'io, può essere così, però ripeto, se chiudiamo 4-0 tutti dicono che siamo belli, noi sembriamo belli. Adesso non è così, ma fra un po' tutti i nodi vengono al pettine, quindi c'è problema. Cosa, diciamo subito che il campionato è lunghissimo, quindi c'è modo e tempo di recuperare, ma che cosa vi siete detti ieri dopo il pareggio con il Nocera, fra di voi, fra i senatori, fra quei giocatori che non dovrebbero avere problemi a portare in fondo una partita come quella di ieri? Che siamo dei polle, che il calcio come sempre non si vince, chi fa meglio il calcio a mercato. Sappiamo che chiunque gioca contro di noi fa la partita della vita sempre e comunque, soprattutto in casa nostra, e noi dobbiamo essere più bravi anche di questo. Mi ho detto, per me non c'è poco da dire, tutte le lamentele che ci sono sono anche giuste, però io guardo le azioni, guardo tutto e ti dico, se le partite finivano 5-6-0, nessuno parlava a questo momento. Il problema è che adesso non è così, però arriverà anche questo momento, secondo me. Un'ultima domanda, Claudio. Leggendo verità che magari sentite un po' troppo la pressione e magari perché tutti vi chiedono di tornare nella categoria che vi compete, che è la Serie D. Io penso alla mia, ti dico proprio, se hai la pressione di giocare a Castello in eccellenza per vincere, per me non devi giocare a pallone. I campionati li ho vinti, anche la pressione non l'ho mai sentita, sinceramente. Ovvio, c'è qualche partita che la puoi sentire di più quando arrivi, però le partite sono tutte uguali. In tutto, vai a giocare una partita, non vai in guerra, tutti vogliono fare il meglio. L'importante è che quando finisci la partita tu pensi, sì, ho fatto il meglio o no, e tanto solo tu lo sai. Però la pressione io non me l'avevo mai sentita, sinceramente. Tu e Porricelli siete la coppia più forte di questo campionato, inutile negarlo, Claudio. Come ti stai trovando? Con Porricelli benissimo, anche con Pagliardini. Secondo me l'attacco è fortissimo. Però, come ti ho detto, fino ad adesso abbiamo sbagliato troppo, quindi non siamo gli attaccanti più forti. Fino in questo momento, questo è quello che dice la carta. Però sulla carta siamo i più forti e per un po' lo dimostreremo.